La guerra in Ucraina genera grandi sofferenze alle popolazioni, rese ancora più vulnerabili dai rigori dell'inverno che si avvicina. Voi seminaristi e sacerdoti della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina custodite i ponti che riconciliano il cielo e la terra e chiedono agli uomini quaggiù di imparare ad amarsi e rispettarsi, abbandonando le armi, le guerre e ogni genere di sopruso. L'ho detto Papa Francesco ad alunni e responsabili del Pontificio Collegio Ucraino di San Josafat, edificato 85 anni fa sul Collegio Nicolo a Roma, per volere di Papa Pio XI. Riferendosi al dramma del conflitto in Ucraina, il Papa ha lanciato questo appello alla pace. Ed è forte l'aspirazione alla giustizia e alla pace che mettono al vando ogni forma di prevaricazione, corruzione sociale o politica, realtà di cui sono sempre i poveri a fare le spese. Dio sostenga e incoraggi coloro che si impegnano a realizzare una società sempre più giusta e solidale. siano essi sostenuti attivamente dall'impegno concreto delle Chiese, dei credenti e di tutte le persone di buona volontà.